Gentili telespettatori, buona giornata. Bruno Vespa, il conduttore di Porta a Porta, cambia vita. Adesso un nuovo lavoro. Continuerà a fare il conduttore televisivo, ma una nuova carriera lavorativa. Ecco che cosa ha deciso di fare. Dopo la passione per i vini, entra anche nel mondo della ristorazione, diventa un ristoratore. E così il conduttore di Porta a Porta apre un ristorante a Manduria, in Puglia, dove ha ristrutturato una vecchia masseria per poi produrci un vino bianco di qualità. Il Donna Augusta 2019, dedicato alla moglie Augusta Iannini, che dopo 35 anni da magistrato e 8 al vertice dell'autorità del garante per la privacy, ha deciso di occuparsi a tempo pieno della masseria Lireni a curare l'azienda di famiglia. La Vespa Vignaioli per passione, che coinvolge anche i figli Alessandro e Federico Vespa. Il ristorante si chiamerà Santa Chiara a Lireni perché si avvarrà di tutto lo staff di chef della Santa Chiara di Turi, Bari. Il ristorante aprirà alla fine di maggio, dice lo stesso Bruno Vespa alla Corriere della Sera. Dice, non è una sfida semplice, soprattutto in questo periodo, ma siamo sicuri della professionalità della nuova squadra. La lista dei vini sarà all'altezza, 100 etichette di tutte le regioni italiane, assieme a una selezione di champagne, per brindare e che Vespa sia un buon gustaio di fatto di bellezza, lo rivela anche quando mesi fa, in occasione del suo libro dedicato alle donne, bellissime. Le donne dei sogni italiani, dagli anni 50 oggi, parlò di Belen. Dice, quando l'ho ospitata a porta a porta, mi sono reso conto che la sua presenza avrebbe riempito lo studio, anche se foste rimasta zitta dal primo all'ultimo minuto. Questo non ha influito sulla mia condizione, però è stata sufficiente a ricordarmi che la bellezza può essere anche usata come un'arma di potere. Basta a pensare a cosa ne fece Cleopatra, un paragone che deve aver fatto molto piacere all'asciogliore all'argentina, che poi era al centro di quella polemica, di quel possibile compenso di 100.000 euro per aver partecipato a un programma di meno di un'ora, una comparsata dove c'erano i suoi parenti, una sorta di sorpresa. Non ho capito bene che cos'era, che non l'ho visto, però si parlava che per 50 minuti di presenza in una trasmissione 100.000 euro di compenso. Qualcuno dice, sì ma sono lordi, guarda che ci deve pagare le tasse. Ah sì? Insomma, ci deve pagare le tasse. Ebbè, la giustificazione di qualcuno. Vabbè, a parte questo, perché Vespa apre un ristorante? C'era anche un'altra persona che ho sentito l'altro giorno che apriva 12 ristoranti. E certo, voi l'avete capito, perché i ristoratori, i ristoranti sono diminuiti, dicono, del 50%, vuol dire che il 50% ha chiuso. Cosa significa? Che il 50% che rimane aperto avrà tutti i clienti di quell'altro 50% che ha chiuso. Quindi ci sarà un boom di vendite per i ristoranti che sono riusciti a passare questa prova. Naturalmente diventa interessante, perché con tutti i ristoranti che hanno chiuso, aprire un ristorante adesso è il momento giusto. Sembrava una pubblicità, vero? Qual è quella pubblicità che diceva il momento giusto? Non me lo ricordo. Reminiscenze, vabbè. Insomma, aprire un ristorante, lui dice, è un momento delicato. Ma qual è il momento delicato? Per aprire un ristorante adesso probabilmente è il momento giusto. Aprire un ristorante adesso, in maggio-giugno, con la riapertura è perfetto, perché con tutti quelli che hanno chiuso i clienti. È un po' così come quando uno produce sedie e la metà dei produttori di sedie chiude per problemi economici, quelli che rimangono in piedi, quelli che hanno la forza di rimanere in piedi, diventano sempre più grandi. Così succede con le aziende. Bene, volevo raccontarvi anche questa cosa, anche perché vi ricordo che a volte con tutti i video che faccio al giorno non ci sono notizie, così tante notizie da poter fare video su Salvini, Meloni, Berlusconi, Letta. A volte vengono fuori anche delle notizie, delle notizie un po' così minori, un po' interessanti, ma intanto vediamo ad esempio che Marco Travaglio, un'altra notizia, dice che fa capire che Nicola Zingaretti mette a Ischio la sua Virginia Raggi, perché voi sapete che Travaglio è un uomo intelligente, ha deciso che il Fatto Quotidiano deve essere l'organo di propaganda del Movimento 5 Stelle. Ma questo perché? Perché lui li stima così all'infinito? No. Lui ha scelto una nicchia di pubblico per vendere le sue copie. Attenzione che vendere non è solo dal giornalaio, è anche in internet, far aprire le sue pagine e leggere gli articoli con le pubblicità. Quindi Travaglio ha scelto, dice un 30% di italiani che vota, questo è nel 2018, vota Movimento 5 Stelle, io divento il giornale dei 5 Stelle, così boom dei ricavi. Poi avendo scelto il suo pubblico deve continuare a portare acqua a questo mulino e quindi difende Conte, difende Arcuri che non lo difende nessuno, Arcuri ha fatto tutto giusto, Figliuolo ha fatto tutto sbagliato, viene fuori con delle difese veramente che non hanno nessun fondamento. E poi adesso che potrebbe candidarsi Nicola Zingaretti a sindaco di Roma, ma tra parentesi non c'ha voglia, adesso lui Travaglio difende la Raggi, la sindaca di Roma che realmente i romani hanno visto, hanno visto quello che com'è cambiata Roma durante il governo di Raggi al Comune. Secondo voi cari amici romani, la città è migliorata durante la gestione 5 Stelle o è peggiorata o è rimasta uguale? Vabbè, magari farò poi un sondaggio su questo, è che io faccio un sondaggio riservato ai romani e poi rispondono quelli che vivono anche a Bolzano e a Lampedusa. Mannaggia! Vabbè, a parte gli scherzi, io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video, siamo anche in Facebook, in TikTok e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie a tutti e a presto. Poi dimenticavo c'è anche l'abbonamento, 2,99€ al mese per poter vedere i video ore prima, no ore prima scusate, per poter vedere dei video dedicati solo a chi ha questo abbonamento. Arrivederci a tutti.